Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News. Vi parliamo questa volta del cinema internazionale che arriva a Firenze grazie alla prima edizione di Cannes a Firenze. Si tratta di una rassegna portata nel capoluogo toscano da François Deon con una selezione di film provenienti direttamente dalla 67esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Quindi una grandissima opportunità per tutti noi toscani di fruire di film che altrimenti probabilmente, dico la maggior parte di noi che non sono stati proprio sulla Croisette, di vedere film che segnano la storia del cinema contemporaneo. Questa grande opportunità per la Toscana è stata in qualche modo sottolineata anche dalle parole dell'assessore Sara Nocentini. Direi che è un risultato straordinario. Vedere a Firenze in anteprima una selezione di film di Cannes è assolutamente un risultato unico che è stato reso possibile da una forte collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Mediazione Toscana e diciamo tutto un mondo molto attivo legato al cinema che orbita su Firenze. Credo che...